Salve a tutti, puntata di onorato di lunedì 11. E' un gennaio, non mi ricordavo che volevo dire. Quindi nel frattempo che cerco di ricordare cosa volevo dire, voi iscrivetevi immediatamente al canale, sulla fiducia ovviamente, sotto c'è il pulsante per iscriversi e poi dopo quel punto si attiva la campanella, cioè dovete attivare anche la campanella, altrimenti arriva una notifica ogni morte di Papa, peggio di quello che succede di solito. Altra cosa, poi sotto in descrizione troverete il link dove seguirmi in ogni dove, ve lo consiglio vivamente, sia perché non c'è solo dove seguirmi in ogni dove, ma ci sono varie cosine, direi, importanti. Anche in questo periodo, ma non solo, per cui insomma, fatelo, cliccateci, ma soprattutto ve lo consiglio invece, perché comunque qualche volta le notifiche ogni tanto vanno a remingo, che per cui insomma è meglio, lì è sicuro che vi avviso, ecco, le notifiche, sappiate che ogni tot Google, sì, vabbè Google perché YouTube alla fine quello è, va bene, fa un po' il cazzo che vuole, forse, forse anche se uno ce l'ha troppe, non lo so, non lo so, non ne ho la più palliera idea. E che volevo dire? Basta, nient'altro. Andiamo avanti, non nel senso di buttarsi in un burrone come invece ha fatto qualcuno. Andiamo a noi. Allora, iniziamo una puntata, se stai iniziando male, invece inizia benissimo. Inizia benissimo nel senso che finalmente ho rivisto tutte le puntate che mi erano rimaste, diciamo, e quindi, ahimè, ho visto con il mio forte, diciamo, come dire, tristezza, no? Perché proprio mi sono messo a piacere quando ho visto, no scherzo, in realtà no, che praticamente non è, non è, non avevo parlato del, di quello che è successo in, tra, tra Terne e Spoleto, insomma, su una rete ferroviaria. Fortunatamente possiamo parlarne sghignazzando, diciamo, ecco, cioè nel senso, no, eh, ci mettiamo a ridere, però, insomma, ecco, cioè nel senso che possiamo tirarle, cioè per la serie è andato tutto bene, fortunatamente, però, però, abbiamo avuto dei feriti, abbiamo avuto comunque un mezzo uscito fuori, insomma, da risistemare, sicuramente sarà risistemabile perché, insomma, non è che chissà che cose, però, insomma, ecco, così, abbiamo avuto una tratta ferroviaria bloccata per giorni, e che dire, poteva succedere uguale, non dico di no, poteva succedere uguale, ma, questo, è come per la team, uguale identico, il fatto è questo, che ci sono delle cose pubbliche pagate da tutti noi, o che sono state pagate da tutti noi, con le tasse, tra parentesi, noi abbiamo solamente uno degli stati con la maggiore tassazione al mondo, che però non corrispondono a dei servizi attantanto meravigliosi, meravigliosi, cioè, per dire, in Svezia, ne sto dicendo uno a caso, comunque, in Nord Europa, insomma, in buona parte, hanno una buona, cioè, buona, buona la sega, una tassazione molto alta, ma vogliamo parlare però dei servizi che ricevono? Vogliamo parlarne? Parliamone, insomma, ecco, sicuramente molto migliori dei nostri servizi, oppure, per dire, in situazioni come sparo in Germania, le tasse sicuramente, magari potrebbero essere più alte che da noi, però c'è un piccolo problema, è un piccolo problema, un problema una sega, però c'è una piccola differenza, ma piccola per modo di dire, che le autostalli sono gratuite, ecco, non sono state donate, perché questo è successo, a dei privati che se ne sbattono altamente i coglioni di fare manutenzione e robe del genere, cioè, questo è stato usato, io vorrei prendere coglioni del calibro di Chino, e lo ripeto ancora una volta, io se ce l'avessi davanti io lo direi che è un grandissimo coglione, lui è chi lo segue, perché il privato è benaviglioso e stupendo che cosa, ma non farà mai la manutenzione, porca puttana, non lo farà mai, non lo fa, non lo fa, perché la manutenzione per un privato è un costo insostenibile, è un costo che non è compensato da un guadagno e il privato non fa un cazzo se non c'è dietro un guadagno, porca di quella puttana, è una cosa pubblica, non può essere in mano ad un privato, non può essere gestito da un privato, no, cazzo, per asserio, io non voglio che i panettoni siano prodotti dallo Stato, questo non lo voglio, perché non ha senso, ma io non voglio che le ferrovie, le autostrade e quindi le strade, che le reti idriche, le reti di dati siano in mano ad un privato, non voglio questo, non lo voglio, perché ecco il problema, che succede, è una cosa come è successo tra Terni e Spoleto, tra parentesi, sono solo qualche secolo che c'è quella ferrovia ed è ancora un binario, non c'è verso di ampliarlo, porca di quella troia, non c'è verso, manco dovessero andare sulla luna, Cristo, manco dovessero spedire un satellite nello spazio, cazzo, non c'è verso di ampliare quella cazzo di ferrovia, c'è quel collo di bottiglia tra Terni e Spoleto che sono lì da sempre, ma porca puttana, questo perché, perché purtroppo qualcuno dirà caro non bandano, cosa le ferrovie sono in mano o sono la maggioranza delle azioni sono proprietà del ministero dell'economia, una sega, perché comunque è sempre un S.P.A., pensa sempre per profitto, non gliene frega un cazzo del pubblico, non gliene frega niente, lo volete capire, porca puttana, perché se fosse per loro l'avrebbero tolto anche tutti i regionali, avrebbero lasciato solo quelli dove, ne so, tra, dove si guadagnano in più e dove non è possibile far girare scusatemi, un un cazzo di, 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 che ne so, di, di freccia rossa, quindi con la scusa che siccome è un treno che va a trecetta allora tutto il resto fa pagare un biglietto, uno sproposito, ecco, vi toglierebbero anche quello, solo perché sono vincolati da un contratto fatto con le regioni, che dicevano tra panente soldi in più, ecco, perché se no col cazzo, se no non avreste nemmeno quello, perché, perché, è un privato, è un privato, è una S.P.A., e si comporta esattamente come un S.P.A., va in giro per il mondo e compra cose, e compra aziende, porca troia, e uno Stato, perché, poi alla fine, F.S., c'è questa cosa, allora, o facciamo che la rete è proprietà dello Stato, con un'azienda che è pubblica, non è quotata in borsa, non gliene frega un cazzo di fare profitto, non gliene frega niente, ok? No. Che però deve essere svincolato da sto cazzo di ferrovia dello Stato S.P.A., non può essere la rete e nel frattempo anche quello che ci viaggia, se vogliamo tutto privato, liberalizzato, e con ste cazzo di liberalizzazioni di sta ceppa di cazzo, ok? Se vogliamo così, altrimenti non può essere, altrimenti le ferrovie sono purtroppo un monopolio, purtroppo sono un monopolio, mettetevi l'anima in pace, cari liberisti di sta ceppa di cazzo, dovete mettervi l'anima in pace, non è possibile far passare i 30 treni nello stesso, nel giro di poco tempo, non è possibile, non è possibile, perché non è un camion, non è un un autobus, che vabbè, ho lo spazio di un autobus, ma comunque, cioè, per la serie, possono anche viaggiare uno dietro l'altro, ecco, anche ravvicinati, i autobus che lo avanti fa un'inchiodata, quell'altro facciamo una bella frittata, però insomma, di autobus, puretti, chi si sta sopra, però insomma, cioè, per dire, vogliamo mettere a confronto i treni con gli autobus, stavamo parlando, insomma, come mischiare, ne so, i cavoli con le pere, insomma, c'entra un cazzo l'uno con l'altro, c'è proprio niente, ecco, cioè, questo è, purtroppo, non si può, allora, o mettiamoci in testa che non è possibile, e quindi, cari liberisti di questa ceppa di cazzo che vedete tutto, è privato, è meraviglioso, stupendo, è meraviglioso, dobbiamo privatizzare anche la mona di vostra madre, ecco, liberate, liberalizzate quella e non scassate il cazzo a noi, porca puttana, non si può fare, non si può fare, basta, oppure, altrimenti, lo sai che vi dico, la rete è pubblica, basta, non esiste più che sia sotto una SPA, perché? perché l'abbiamo visto, perché, ecco, i lavori, non lo so, fra un po', veramente, fra un po', cioè, è più, è più facile sparare un missile su Marte che, che fare un cazzo di raddoppio tra, tra due cittadine e Umbre, perché alla fine Terni e più Spoleto non è che stiamo a parlare due metropoli, ecco, per quanto Spoleto, c'è il rivale di Dott Matteo, ovvero Don Matteo, che pare ai Gotanziti, c'è un morto al giorno, c'è, c'è, c'è bellata con cogne e erba, c'è, voglio dire, non è possibile e Novi Ligure, porca puttana, c'è, questo, oltre al fatto che poi succede quello che è successo venerdì, venerdì che è successo? È successo che un treno regionale stava andando su quel cazzo di collo di bottiglia, che è quel pezzo abbinare unico tra Terni e Spoleto, che ripeto, non è una linea proprio che non passa nessuno, ma perché vogliamo parlare delle dorsali siciliane, vogliamo parlare di quelle, vogliamo parlare della Terni, sì, Terni, ciao, buonanotte, tutte e due, quindi sia della Palermo Messina che della Messina Caragna, vogliamo parlare che sono un binario unico e sono ultra attraversate da qualsiasi tipo di traffico, porca puttana, vogliamo parlare di quello? E sono tutte tratte del 1800 che sono quel modo, porca puttana, non da ieri, e dicevo cazzo stai costruita ieri, al 1800, 1890, insomma, prima, prima, cioè, 1900 non ce l'ha fatta, ma che cazzo stiamo dicendo, sono più di un secolo che sono quel modo, porca troia, ma dai, e che cazzo? Come? Il privato è tanto efficiente, tanto bravo ancora non ha sistemato niente? Allora non mi sembra, è tanto efficiente a prendere soldi, sto cazzo di privato, e che palle, eh, e poi, ecco, succede questo, che ritorniamo a noi, al fatto, cioè, che questo treno, regionale, per cui, tra i raffocchi schemi, stava andando a Spoleto, e si è trovato davanti in Afrana, e insomma, è uscito fuori dal binario, fortunatamente, credo che, credo i riflessi del, del macchinista, credo che abbiano fermato in tempo, insomma, quindi non è successo un granché, nel senso, il locomotore è uscito fuori dal binario, qualche, non so se la prima o anche la seconda, insomma, immaginate quanto cazzo stavano andando forte, e, proprio per niente, anche perché, tra parentesi, lì si va piano, insomma, anche per forza, e quindi, insomma, non è successo niente di che, però, insomma, è successo che, fino a, penso a stasera, c'è ancora là, il locomotore in mezzo ai coglioni, il locomotore, il trenno, insomma, in gran parte del trenno sta ancora là, in mezzo, perché, perché, perché è uscito fuori dal binario con, con, lo smottamento che si è trovato davanti, forse non ho detto che cosa era successo, e, questo perché, anche, perché non si fa manutica, manutenzione, ma la manutenzione, come ho scritto su un post, appena ho visto questa notizia, non è solo andare lì e mettere una rete del cazzo, oppure fare le infiltrazioni, quando, per, per, per bloccare l'avanzata della frana, è troppo tardi quando fai ste robe, è troppo tardi, è troppo tardi, tu devi, devi, mettere, purtroppo, devi tenere una persona che controlli, un sistema di controllo, un qualcosa proattivo, che non ha, che non è in funzione quando ormai sta venendo giù la frana, perché non ha senso, non ha senso, tu purtroppo devi tenere una squadra di persone, perché una persona forse potrebbe essere nuova, ma una squadra di persone che sta costantemente sulla tratta, e costantemente fa manutenzione, ma fare manutenzione non solo di quel tratto, perché, perché è in mezzo alle montagne, alle colline, e quindi, è un tratto montano, e quindi, insomma, ecco, può succedere ste robe, ma qualsiasi tratto, qualsiasi, purtroppo qualsiasi, è come, è come le strade normali, una volta c'erano gli scopini, c'erano, il cantoniere dell'ANAS, e quanto andavano meglio le cose, tu non ti aggiravi per una strada, e trovavi la giungla, era molto meglio, succedeva un qualcosa, nel giro di due secondi, c'era qualcuno che interveniva, adesso, e poi è venuto giù, quando è passato il regionale, e se passava all'Intercity, e se passava qualche freccia bianca, freccia o qualcosa, non mi ricordo che cazzo di frecce passano lì, che raccontavamo, ma di che cosa cazzo stiamo parlando, questo perché, perché il privato non metterà mai i soldi, per mantenere, fra virgolette, una persona per fare manutenzione, e stare lì sola a fare manutenzione, quindi non avere un guadagno, perché non ha un guadagno, una persona che sta lì, è solo un costo, che però è una cosa miope, perché in realtà, è una visione del mondo molto miope, perché, è vero, è un costo, ma al tempo stesso, ti fa risparmiare soldi, di una cosa del genere, quanto è costato di più, se uno mette in conto questo, quanto è costato di più, far venire giù una montagna, quindi, non spendere i soldi, di una persona, di una squadra, di persone, che sta lì, tutti i giorni, e controlla, e magari, può dire, guarda, qui si sta staccando, per cui tocca intervenire pesantemente, oppure magari, per l'appunto, siccome poi lì è una zona, in cui spesso e volentieri, danno fuoco le cose, magari, invece, curava il costone, e quindi, magari, certe cose, non sarebbe venuto giù, magari, quanto sarebbe costato di meno, mettere una persona, mettere una persona, un gruppo di persone lì, a lavorare lì, per mantenere, in sicurezza, quella zona, quella tratta, e invece, quanto è costato, in servizi sostitutivi, nel recupero della locomotiva, e delle carrozze sviate, nel ripristino del sedimento, nel ripristino della sede, ferroviaria, quanto è costato di più, quanto è costato di più, coglioni, però noi pensiamo, che il privato, è sempre meraviglioso, è sempre stupendo, eccolo, questa è l'ennesima, dimostrazione, che, se una cosa è pubblica, non deve essere in mano, ad un privato, perché il privato, non gliene frega un cazzo, di fare manutenzione, non gli frega niente, gli frega solo, di avere il profitto, il privato, va bene se fa il pane, va bene se fa, la pizza, va bene se fa da mangiare, va bene se mi vende, gli vestiti, va bene, questo, e potrei dire altre cose, ma non va bene, se gestisce un bene pubblico, non deve gestirlo, un cazzo, di privato, ok, neanche costruirlo, bene pubblico, deve essere costruito, dallo Stato, gestito dallo Stato, attraverso, magari in comune, attraverso, magari, le regioni, eccetera, eccetera, però comunque, diciamo, lo Stato è inteso, come pubblico, deve essere gestito, anche dal pubblico, punto e basta, e questo non è, maxismo, oppure, perché sono tutt'altro, ma è buonsenso, è buonsenso, è avere gli occhi aperti, perché, solo, solo chi c'ha i barocchi, come deficienti, come, come sto cazzo di chino, che si vede, che c'ha sua moglie, che gli mette le corna, con un dipendente pubblico, perché c'è la morte, con i dipendenti pubblici, sto grandissimo cornuto, ecco, e gli sta bene, a parentesi, visto, visto le idee, di idiote che c'ha, eh, ma si vede, però, quanto è, quanto è meraviglioso, e stupendo il privato, senza poi, mettere, quanto è stato bello, per esempio, il crollo, dell'ex, Ponte Morandi, no, quello è stato bellissimo, eppure, chi cazzo c'era, che gestiva quella, cazzo di autostrada, mio nonno, c'erano i Benetton, c'erano, porca puttana, che poi si chiamano, Atlanti, Atlanti, Atlante, eh, Fanculo, si potrebbero chiamare, anche Fanculo, S.P.A., tanto c'erano sempre loro, era sempre un cazzo di privato, che stava gestendo, una cosa pubblica, cazzo, bello, bello, no, andatelo a dire, i 40 morti, che ci sono stati, quanto è stato bello, quanto è bello, e meraviglioso, una cosa costruita, gestita, da un cazzo di privato, una cosa pubblica, che deve essere, usufruita da tutti, cazzo, cazzo, andatelo a dire a loro, ciale del coraggio, non è che io devo avere il coraggio, di dire a Chino, che è un grandissimo cornuto, quando c'ha ste idee, del cazzo, o chi come lui, ma io vorrei, che questi grandissimi, deficienti, avessero il coraggio, di andare dai parenti, dei poveri disgraziati, che sono caduti giù, con le loro macchine, da quel ponte, e dicessero, quanto è bello il privato, vorrei vedere, se hanno il coraggio, loro devono avere il coraggio, di farlo, ma non ce l'hanno, questo coraggio, perché stanno belli, tranquilli in Parlamento, e guadagnano, migliaia di euro, delle nostre tasse, non del grandissimo privato, delle nostre tasse, ok, per dire ste stronzate, e poi vediamo, come cazzo, è successo, anche di recente, e che noi dobbiamo, dare tutto in mano al privato, perché il privato, è meraviglioso, il pubblico fa schifo, intanto però, gli ospedali, che stanno cercando di curare, i vari coglioni, perché spesso e volentieri, no, anzi, puretti, magari perché dai, che non è coglione, purtroppo, ha solo, ha solo, la sfortuna, di avere, di aver messo al mondo, dei deficienti, che a sua volta, hanno messo al mondo, dei deficienti, e che vanno in giro, a fare i deficienti, ecco, più che altro, non è il privato, adesso, che sta cercando, di salvare, delle persone, da sto cazzo, di pippo virus, o altre malattie, perché tu prova, prova ad andare, in un ospedale, privato, con una patologia, importante, no, con unghia incarnita, prova ad andare, con quello, vediamo un po', se ti curano, perché paghi, momento che non paghi, ciao, arrivederci, vado in un ospedale pubblico, ma dai su, doveva avere i paraocchi, vabbè, chiamiamo argomento, comunque ecco, non lo so, io, ormai aspetto, che avverrà qualche altra cosa, e ne parleremo ancora, ne parleremo ancora, di quanto è bello, e meraviglioso il privato, potrei chiamarlo così, la rubrica, quanto è bello, e meraviglioso il privato, quando gestisce, sotto, sottotitolo, quando gestisce, una cosa pubblica, al posto del pubblico, bello, meraviglioso, una sega, vabbè, bello e meraviglioso, se siete voi azionisti, se avete azioni, quella lì, è bello e meraviglioso, guadagnate un sacco di soldi, per sempre, a scavito, ecco, di cose, insomma, vabbè, andiamo a noi, e, vi do, una buona notizia, finalmente, sono riuscito a ripristinare la voce, la voce, fra virgolette, storica, e anche qui in bot, fra virgolette, anche tre, quattro, di virgolette, della fornace tv, sono riuscito finalmente, per cui, è stata la natura, diciamo, questo 2021, dal punto di vista, ovviamente, della fornace tv, e non da altri, da altri, insomma, dal punto di vista, della fornace tv, abbiamo iniziato, con il piede, direi, più che giusto, e, perché, insomma, la fornace tv, sta dando, e ormai, più di una settimana, che non tocco, non faccio niente, e, quindi, direi, che, è, 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 posto, e, però, ho finalmente, recuperato, la, la famosa, voce, e, più che altro, io stavo pensando, che, beh, ma su youtube, credo, che c'era ancora, la, la, però, lo spot, per esempio, quello, è, lo, potrei modificare, come? Bueno, e, eh, sì, come no, certo, per cui, oddio, certo, per una sigla, mannaccia, eh, mi conviene, trovare, se trovo, cioè, scusa, trovare, se trovo, beh, scusa, quello che ho detto, cercare, l'originale, cioè, a quale fanno riferimento, che stavo pensando, siccome, il primo spot, quello lì, eh, allora, rettifico, cioè, riparto, ritorno indietro, riavvolgo il nastro e riparto, dello spot, diciamo, dello stacco pubblicitario, della fornace tv, c'è, in ordine più o meno spazio, c'è un, uno spot, diciamo, riservato proprio alla fornace tv, nel senso, vi invito a guardare la fornace tv, che non è quella in cui io mi trasformo in un cane, ma è, che, vabbè, che il primo palco ne parleremo, ma è, quello in cui, sostanzialmente, mia sorella, cerca di, di guardare la fornace tv, su un televisore, ovviamente, in giardini, in giardino, senza collegamenti, né niente, è ovvio, che non funzionerà mai, però, comunque, vabbè, queste sono cose, insomma, sono palesi, ma noi ridiamo anche con le cazzate, e, sta di fatto, insomma, che, che prova a vedere la fornace tv, ovviamente, non la vedrà mai, perché, insomma, perché la fornace tv, è solo su web, bene, siccome, al suo tempo, dice, vai su, istituto, la fornace, punto tv, punto tv, punto tv, insomma, vabbè, punto, punto tuvalu, oppure, c'era su, www.livestream.com, slash, la fornace tv, nel frattempo, che è successo, che poi è stato, lo stacco, diciamo, la, la rinascita, della, della, del, della fornace tv, a marzo, di due anni fa, se non ricordo male, è stato, il fatto, che, live stream, non lo so, quando è successo, sta roba, è stato di fatto, poi, io, perché ho avuto, altri cazzi, altri problemi, altre robe, perché non è che so, diciamo che, la fornace tv, era, stava vivendo, un periodo, di, di, completo abbandono, e, e, che è successo, che, un bel giorno, insomma, ecco, ho rotto, l'abbandono, facendo, diciamo, ma, andiamo un po', a vedere, se riesco, a scaricare, a fare cose, e, ahimè, sono andato, su, un live stream, punto, slash, la fornace tv, e non c'era più, cioè, purtroppo, ripeto, non so, in quale, periodo, preciso, è successo, questa cosa, sta di fatto, che, mogulus, che poi, era diventato, live stream, era stato, comprato, acquisito, ceduto, non lo so, a, 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 new stream, credo, no, quell'altro, che, 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 a pagamento, come cazzo si chiama, eh, quel, madonna, non mi viene il termine, cioè, non mi ricordo il nome, quella sorta di youtube, che però, a pagamento, non mi viene come, come cazzo si chiama, insomma, da di fatto, che, essendo un servizio, a pagamento, dice, non poteva lasciare, una cosa in versione, anche gratuita, per cui, ha, chiuso, e l'ha reso solo a pagamento, per cui, insomma, io mi sono trovato, il punto in bianco, che sto live stream, in buona sostanza, esiste, ancora, ma, è solo a pagamento, punto e basta, e manco poco, poi, vabbè, o se era un, un euro al mese, o vabbè, ce lo mettevo, ma cazzo, cioè, cominciava a essere, mi pare, un centinaio d'euro, anche al mese, per cui, insomma, era un costo, veramente esagerato, e allora ho detto, vabbè, troviamo una soluzione alternativa, e alla fine, insomma, ho trovato la soluzione di Twitch, e, vabbè, e quindi va, e bene così, c'è un però, il però, è che, ovviamente, c'avevo tutte le indicazioni, anche sul video, che era, live stream.com, slash, la fornace tv, e finché era solo scritto, ho preso, ho tagliato il, il, il frame, insomma, la schermata, non mi viene muo, il termine esatto, in cui c'era scritto, live stream.com, e ho sostituito, ho messo twitch.com, slash, la fornace tv, no, aspetta, twitch.tv, twitch.tv, slash, la fornace tv, e, il problema grosso, è che c'era la voce, che lo diceva, anche, quindi, finché era, istituto, la fornace.tv, andava bene, dopo, and diceva, oppure, l'ho dovuto levare, perché, ovviamente, non avendo più il programma, tutto quanto, per poter, e quindi la voce anche, per poterlo sostituire, l'ho dovuto togliere, completamente, ora, avendolo, in realtà, potrei ripensare, di rimetterla, potrei rimettere la voce, che dice, oppure su, anziché, oppure, niente, oppure, live stream.com, oppure, insomma, oppure, oppure, insomma, twitch.tv, slash, la fornace tv, cioè, fallo dire, anche la voce, ma ecco, invece di quello, oppure, poi, silenzio, perché, ovviamente, non c'avevo, la voce, l'unico problema, è che, uno, devo rifare il palinzesto, ma vabbè, come ormai vi ho detto, ci vuole un secondo, per farlo, e, cioè, no, secondo proprio no, però, insomma, è una cosa fattibile, insomma, prima, prima era un, era, signore, era un incubo, era un incubo, adesso, diciamo che, vabbè, è un po' più fattibile, e lo posso fare tranquillamente, insomma, ecco, cioè, l'unica cosa, è che, mi tocca, se riesco a trovare, invece, il video a cui faceva riferimento, perché ovviamente, sul palinzesto, ci sono tutti i pezzi di video, eh, metto un secondo, cioè, devo solo mettere l'audio, insomma, ecco, cioè, nel senso, non modifico il video, non modifico niente, modifico l'originale, del, quel, quello spot, non modifico, credo, devo solo trovare, quello, anche perché, comunque, avevo aperto un progetto, per poter fare, questa modifica, e, quindi, insomma, ecco, devo, devo solo fare, sta roba, e quindi cambiare, anche, anche il coso, però, stavo pensando, che su, eh, su YouTube, a parte che non c'era, questa cosa, non c'era proprio, il cambiamento, della, credo, ci sia ancora, proprio, quello lì, ho scritto, eh, purtroppo, questo, però, insomma, così, altra cosa positiva, è che, ovviamente, quando ci sarà, la seconda, la seconda, stagione, ecco, di, 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 Matteo, ovviamente, non ci sarà, ci sarà, uno spot, insomma, ecco, che, sarà fatto, insomma, ecco, sicuramente più breve, stavo pensando, magari, ecco, di, di fare una cosa, anche carina, una grafica, carina, per, quando siamo avanti, cioè, insomma, quando, quando, quando sappiamo, che andrà in onda, avere una cosa, insomma, un po' carina, una gif, carina da mettere, sto pensando, insomma, vi consiglio, di, di, guardare la fornace tv, anche direi, a breve, insomma, cioè, no, breve è un cazzo, breve no, cioè, voi guardate, a prescindere, perché comunque, è sempre una buona cosa, e, però, insomma, sto pensando, che, magari, comunque, mi ripeto, cioè, il fatto che, di avere, il, il server, qua a casa, e, insomma, mi lascia, e, soprattutto, avere un computer, per poter, creare, i, i contenuti, performanti, con, con, la più maiuscola, eh, insomma, cioè, devo dire, che, finalmente, finalmente, ora, largo, a, a sua maestà, largo, no, a sua maestà, largo, alla fantasia, proprio, ormai, possiamo sbizzarrirci, come, come vogliamo, cioè, per dire, una cosa, come è successa, e, a, fine anno, e, e non solo, e a capodanno pure, diversamente, avrei potuto farlo, se avessi avuto ancora, la situazione, antecedente, a, a dicembre, ai primi di dicembre, cioè, se avessi, non avessi avuto, il computer nuovo, non avessi avuto, il server, server, poi, tra virgolette, eccetera, eccetera, è stata, diciamo, ecco, finalmente, insomma, ecco, finalmente cominciamo, a ragionare, e, insomma, potrebbe essere una cosa, che potrebbe essere utilizzabile, cose che possiamo dire, prima di salutarci, magari veloci, sto pensando, ah, poi alla fine, non c'è stato niente, con un incontro, forse avevo detto, forse no, può essere, che avevo, già accennato, insomma, che dovevo vedere, ma, no, tutto sviato, a mercoledì, domani sono, sono sempre smart schifo, però domani riprende, corso di OBS, che sto seguendo, perché comunque, mi ha dato, dei spunti, dei cose interessanti, qualcosa, per carità, ammetto di, di essermi anche annoiare, che allora, le cose, insomma, che già sapevo, perfettamente, mi sono tolto, una pellicina, con l'intenzione, di ricordarmi, che cazzarolo, volevo dire, boh, quelle di Twitter, le cose, ce l'ho detto, su tempo, ma, vi dico, solo sta, cazzata, diciamo, della, della fornace tv, e basta, e poi ci salutiamo, magari domani, abbiamo altre cose a dire, se guardate, la fornace tv, ogni tanto, oltre a quello spot, che vi ho detto, ce n'è anche un'altra, in cui c'è solo io, che mi trasformo in un cane, a parte che quegli effetti, a un certo punto, quando c'è la trasformazione, in realtà, non l'ho capito, da dove cazzo, sono saltati fuori, cioè, vabbè, cioè, nel senso, non sono effetti commessi, cioè, quegli schifezzi, che si vedono, in realtà, non lo so, perché, sono saltati fuori, sta di fatto che ci sono, e io le ho presi, non ho capito perché, boh, insomma, premier che utilizzavo, a suo tempo, aveva dei, dei lag, non lo so, come mai, è saltato fuori, sta roba, comunque, vabbè, ci sta, più che altro, volevo parlarvi di questo, che ripeto, è una cazzata, più di tutti i discorsi di onorato, e, praticamente, quello è, uno dei cani, insomma, dei, dei miei, ma al tempo era anche mio, e, devo dire che, è un cane, che, solitamente, non sta fermo, non sta fermo, un attimo, infatti, non so se voi vedete, che, che si muove continuamente, è un cane, che, che è iper, iperattivo, non sta fermo un attimo, la cosa che, che vi dico, che, incredibilmente, perché è stata veramente, una cosa incredibile, che sia stato fermo, cioè, nel senso, si muoveva continuamente, non sta fermo un secondo, non è che sta fermo fisso, e, anzi, il fatto che, che poi si muoveva così, eh, sembra, come, che mi è successo, per cui, ecco, diciamo che, cosa, ma più che altro, la cosa che è stata assurda, è che, ricordo che, fu, incredibile, perché, non, non mi ricordo, di aver fatto, tante, riprese, ma, dove ne fatte, veramente, poche, forse anche solo una, però, ripeto, è passato tanti anni, per cui, potrei anche sbagliarmi, però, mi ricordo, che, insomma, sono stati poche, per riprese, comunque, è stato sostanzialmente, fermo, ed è incredibile, anzi, certe volte, gli facevo io, dietro, dietro alla telecamera, gli facevo una cosa, tipo così, cercare di attrarre, la sua attenzione, però è bello, che lui stava fermo, per cui, vedete, quello spot, oltre, alla cosa assurda, che, insomma, io guardo, la gazzetta, dello sport, l'unica, gazzetta, dello sport, che ho, perché, quando, vinse, il, il, il giro d'Italia, l'ultimo giro d'Italia, vinto da, da Ivan Basso, per cui, comprai per questo, perché, sennò, altrimenti, io, che compro la gazzetta, dello sport, ma, ma, manco, se, ma, manco, se me lo regalano, ecco, e, anche perché, calcio, 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 per cui, insomma, me ne frega una sega a me, il, che altro è una cosa, pensate sempre, che, quello è un cane, che, non sta fermo, un secondo, c'è una cosa incredibile, quando, eh, dico sta cosa, un po' privata, quando c'è la mia compagna, che non sta fermo, un secondo, e, che ne so, arriva, magari, sta le scale, sta lì davanti, no, si, eh, però, vedi, gli scattini, e, e, sta ferma l'attimo, ecco, sembri, sembri, insomma, quel cane, e, no, voglio dire, molto più bello, che quel cane, però, insomma, con rispetto per Chris, e, eh, se era attratto dai cani, ecco, voglio dire, ero preoccupante, ero uno zofio, e, non nel senso di amante, che vuole bene, ma, amante in un altro senso, ecco, o, non te ne dutto, anche gay, perché, insomma, è maschio, pensate sempre, che, comunque, eh, quello è un cane, che non sta fermo un attimo, non sta fermo un attimo, cioè, ma poi, se tu lo fermi da una parte, lui si muove, per cui, vedere quel, poi dura anche parecchio, cioè, nel senso, insomma, non è che è stato un secondo, fin, poi, via, no, un cazzo, è rimasto lì, insomma, prendetela come, come un evento, strano, insomma, ecco, che può succedere solo su, la fornace di W, e, noi, con queste, dote di colore, queste, ne so, questo è il pietro le quinte, la fornace di W, penso che ci potremmo anche salutare, come ho già detto, mani sono, sono di nuovo, i smart schifo, così come mercoledì, e poi dopo sono in, in presenza invece giovedì e venerdì, e giovedì, avremo una bellissima, prima volta, non proprio meravigliosa, prima volta, aspetta, fino a un certo punto, nel senso, prima volta, con, insomma, la mia attività lavorativa, cioè, non perché non mi sia mai successa una cosa del genere, anzi, mi è successa diverse volte, purtroppo, però la prima volta, invece, come, come, come attività lavorativa, e, ahimè, insomma, dovrò, andare a fare una denuncia, e, vabbè, andiamo a fare una denuncia, no, niente di, cioè, scomparsa una cosa, e tocca, insomma, fare una denuncia, purtroppo, purtroppo non è saltata fuori, nel frattempo, e quindi, ahimè, se saltasse fuori, e ci risparmiamo questo, se no, altrimenti, vabbè, purtroppo è successo questo, e, giovedì, insomma, avremo questa bella cosa, eh, dovrà succedere, prima o poi, e, per oggi ormai, ecco, nient'altro, non mi viene in mente altro, quindi, se non, che a sto punto ci salutiamo, e ci vediamo, alla prossima puntata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.